Perché hai sbagliato dire cose negative su di te? Una delle cose peggiori che puoi fare è dire delle cose negative su te stesso. Per esempio quando ti dici sono un fallimento, non sono abbastanza capace, non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza bravo nel farmi degli amici, sono troppo timido, non sono all'altezza. Ora, devi sapere che la mente lavora per associazioni di parole e immagini. Usando parole tossiche a ripetizione all'interno della tua mente 7 giorni su 7, 30 giorni in un mese, generi costanti immagini negative che alimentano la tua ansia, la tristezza, la demotivazione, alimentando il circolo vizioso dell'insicurezza e a volte anche dell'insuccesso. Infatti prova a fare questo esercizio insieme a me. Se io mi ripeto sono un fallito, mi dici nei commenti qui sotto qual è la prima immagine mentale che ti viene in mente? Ora, hai capito dove sta il segreto? Occorre iniziare a parlare e a parlarsi in modo diverso. Un modo che ho ribattezzato comunicazione efficace in chiave psicologica. Se vuoi imparare come farlo, allora leggi la caption. E tu qual è la cosa peggiore che hai pensato verso te stesso? Scrivimelo nei commenti qui sotto e seguimi per altri video.